Vertice tra i governatori di Puglia e Basilicata per assumere una posizione condivisa in merito all'individuazione del sito di stoccaggio delle scorie nucleari da parte del Governo nazionale. Si tratta di un primo incontro per redigere le osservazioni da presentare entro il prossimo 6 marzo. Sentiamo. O questo problema lo risolviamo insieme o c'è il rischio che anche il coinvolgimento di una sola regione possa creare conseguenze alla regione confinante. Lo hanno dichiarato il presidente della regione Puglia Michele Emiliano e l'assessore regionale all'ambiente Anna Grazia Maraschio, intervenendo in videoconferenza ad un incontro a cui hanno partecipato il presidente della regione Basilicata Vito Bardi e l'assessore all'ambiente Lucano Gianni Rosa. Si è trattato di un primo incontro operativo per cominciare a concordare una strategia unitaria e definire insieme tutti i rilievi da sottoporre al Governo nazionale per scongiurare la localizzazione delle scorie nucleari nei siti pugliesi e lucani, così come riportato dalla mappa pubblicata la scorsa settimana dalla SOGIN della CNAPI. Lo riporta una nota diffusa dalla regione Puglia. I siti di cui parliamo, hanno dichiarato Emiliano e Maraschio, sono siti connessi dal punto di vista geologico e naturalistico. Sappiamo bene di avere di fronte per ora solo un elenco potenziale, ma intendiamo tirarci fuori da questo elenco perché quelle pugliesi e lucane sono tutte aree di particolare pregio naturalistico che fanno parte di parchi o che sono candidate a farne parte. Noi vogliamo rispondere con delle osservazioni pertinenti e siamo ben contenti di agire di concerto con la Basilicata. Per questo, già nei prossimi giorni, l'Aggiunta regionale pugliese approverà una delibera di indirizzo per esplicitare meglio le azioni e le forze da mettere in campo. Le osservazioni dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione della carta dei siti potenzialmente idonei, cioè entro il 6 marzo 2021.